È il momento del lip-sync for your win! Date tutto e per l'ultima volta mie prescelte non facite strunzare. La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera è un volo a planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro, ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita Non sono una signora, una con pochi stelle nella vita Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita Non sono una signora, una con pochi stelle nella vita Non sono una signora, una con pochi stelle nella vita Non sono una signora, ma una con pochi stelle nella vita Prima di proclamare la vincitrice, vorrei ringraziare la nostra ospite eccezionale, Ambrangiolini. Grazie a voi del resto, veramente. È stato bellissimo, grazie. E naturalmente voglio ringraziare i miei compagni di viaggio, Chiara Francini e Tommaso Zorzi.